Giovani e lavoro. Il Comitato delle Regioni riunito a Bruxelles in sessione plenaria ha votato all'unanimità a favore delle proposte illustrate dal Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi per il pacchetto di interventi che la Commissione Europea sta mettendo a punto per combattere la disoccupazione giovanile, arrivata al 22,4% in Europa e al 35,9% in Italia. Misure che stanno prendendo come modello il progetto Giovani sì barato dalla Regione Toscana due anni e mezzo fa. Noi puntiamo a fare in modo che entro quattro mesi dalla conclusione dell'esperienza scolastica universitaria sia data al giovane la possibilità di avere un rapporto con il mondo del lavoro. Abbiamo fatto l'esperienza dei tirocini, è risultata positiva, abbiamo fatto iniziative importanti anche a supporto dell'imprenditoria giovanile nell'industria, nella manifattura, nel commercio ma anche nell'agricoltura. Tra le altre proposte di Rossi adottate dal Comitato delle Regioni, ampliare fino a 30 anni l'età dei beneficiari delle nuove misure europee, standard di qualità adeguati per far sì che tirocini apprendistati siano reali per corsi formativi e non un modo per abbattere il costo del lavoro e soprattutto anticipare al 2013 i finanziamenti previsti dalla Commissione. Chiediamo che i 6 miliardi stanziati dalla Commissione europea siano anticipati al 2013, così come chiede Martin Schulz, in modo da poterli utilizzare subito perché non si può aspettare. Fermo restando che secondo Rossi 6 miliardi di euro per 27 paesi sono comunque insufficienti, basti pensare che alla Toscana non toccheranno i più di 35 milioni. Nei prossimi mesi il progetto Giovanni Sì, già presentato a Bruxelles, Helsinki, Madrid e in Catalogna, sarà illustrato in varie regioni italiane.